Amici, ex coreografo Giuliano Peparini denuncia abusi sessuali, nella danza sempre esistiti, non ne parlai mai in famiglia Il fratello dell'ex insegnante del talent show di Maria De Filippi Veronica Peparini ha parlato del problema in occasione dell'apertura della sua Academy Giuliano Peparini rompe il silenzio e si schiera dalla parte di giovani allievi L'ex coreografo di Amici, e fratello dell'ex insegnante del talent show di Maria De Filippi, Veronica, ha aperto una scuola di arti performative e, in occasione dell'inaugurazione della sua Academy, ha parlato di un problema troppo spesso tacciuto nel mondo della danza Peparini ha raccontato infatti di essere stato personalmente vittima di abusi, una questione delicata e da troppo tempo presente nel percorso di formazione dei giovani ballerini. Scopriamo cosa ha detto Giuliano Peparini sugli abusi sessuali degli allievi In occasione dell'apertura della sua Peparini Academy, come detto, l'ex coreografo e direttore artistico di Amici Giuliano Peparini ha denunciato una problematica che da tempo affligge e inquina il mondo della danza Il fratello di Veronica Peparini, ex insegnante di danza ed ex coach al fianco di Anna Pettinelli ad Amici, ha infatti alzato il velo sugli abusi sessuali nelle scuole di giovani ballerini, spiegando al quotidiano la stampa di essere stato egli stesso vittima di molestie? Nessuno ne parla mai, ma gli abusi sono sempre esistiti nel nostro ambiente. Lo dico perché l'ho provato sulla mia pelle Peparini è entrato anche nel dettaglio della questione Per esempio, alcuni insegnanti volevano discutere della lezione o del mio percorso mentre loro si facevano la doccia, completamente noti Io mi sentivo a disagio, intuivo che fosse una richiesta strana ma non ero l'unico a ricevere questo genere di inviti Paradossalmente era la normalità. L'ex coreografo di Amici ha ricordato, ci sono state delle situazioni dove si è sfiorato l'abuso fisico ma, anche lì, non ho mai detto nulla. Solo con il senno del poi ho realizzato che erano situazioni sbagliate Una nuova scuola di danza Giuliano Peparini ha parlato della delicata questione degli abusi sessuali di giovani ballerini in occasione dell'inaugurazione della sua nuova scuola di arti performative Accademia di danza classica, moderna e hip-hop, ma anche di canto, recitazione, musicale arti circensi, la Peparini Academy sarà, anche in questo senso Un posto sicuro per ragazzi e bambini, perché quando ero giovane io ci venivano chieste cose che normali, in realtà, non erano a spiegato l'ex coreografo di Amici, che nel personale della sua scuola conterà anche su Veronica Peparini Andreas Muller, Gianluca Merolli e Simone Leonardi, ma anche Fabio Lazzara, Fabrizio Palma e Peppe Vessicchio, che sarà il direttore della vocal classico Grazie a tutti